Ampal è l'Agenzia Nazionale per il Lavoro. Coordina le politiche attive per le persone in cerca di occupazione o per la ricollocazione dei disoccupati, coordina l'attività dei centri per l'impiego, coordina l'attività per il reddito di cittadinanza, coordina il sistema informativo con IMSS e Inali. Ebbene, in questo periodo di crisi, che è anche e soprattutto crisi occupazionale, che cosa fa il suo presidente, tal Domenico Parisi, nominato durante il governo Conte 1, pensa bene di andarsene in America per altri incarichi. Ebbene, oggi noi abbiamo ottenuto che Domenico Parisi venga a rispondere in commissione lavoro e venga a rispondere non solo al suo comportamento ultimo, ma anche di come utilizza le risorse pubbliche di Ampal per i suoi spostamenti, per i suoi viaggi, per la casa a Roma. È incredibile che durante una emergenza del genere uno che dovrebbe essere il servitore dello Stato, che presiede un'agenzia fondamentale per i cittadini e per i disoccupati, se ne scappi in America a fare non si sa che cosa se non altri interessi.